Benvenuto a Michelangelo Oraccio, candidato a sindaco alle prossime elezioni comunali al comune di Gioia Sannitica. Benvenuto. Lei ritorna a candidarsi a sindaco nel suo bellissimo paese. Perché? Per riportare al centro il nostro territorio, al centro del Matese, di dare dignità alla nostra comunità che in questi ultimi anni abbiamo avuto un degrado sia di carattere sociale che economico. La sua lista è da chi è composta prevalentemente? È composta da giuristi, da economisti, nella fattispecie io, poi imprenditori e varie attività di carattere commerciale e sociale, insomma varie attività economiche. Quali sono tre dei progetti che tiene più a cuore e che farà di tutto per portarli a termine? Il primo è quello di sviluppare l'economia del territorio attraverso l'incubatore di imprese che è stato per cinque anni completamente abbandonato, nonostante la mia precedente amministrazione non lo avesse realizzato. Poi un'attività di manutenzione ordinaria di tutte quante le strade, le piazze del territorio e poi lavorare sul rischio idrogeologico. C'è stato qualche cosa che il Uscende ha fatto che lei sarebbe anche disposto a congratularsi? Domanda difficile. Sarei disposto a congratularmi, sì, sull'attività di carattere sociale che è stata fatta, su questo sicuramente. Cosa invece lei non avrebbe fatto? Cioè come sindaco uscente, no? Il dissesto. Il dissesto. Si poteva evitare? Assolutamente sì. Due delle cose che farebbe subito alla prossima consigliatura in caso di elezione. Il giorno dopo qual è la prima cosa? Il giorno dopo pulizia di tutte le strade, le cunette che sono veramente in condizioni pietose nel nostro territorio. Perché dovrebbero votare la sua lista? Perché ho dimostrato, io personalmente è una parte delle persone che sono con me, di essere in grado di poter amministrare nel migliore dei modi con competenza. E poi perché la lista è stata rinnovata con l'inserimento di professionalità importanti e soprattutto forze giovani che vogliono mettersi in gioco e che quindi saranno il futuro del nostro territorio. Per questo si chiama gioia futura poi la lista. Tanto per concludere, le ho avanciato di secondi per lanciare un messaggio ai suoi concittadini. Beh, i miei concittadini dico che se vogliono cambiare le sorti del loro territorio devono votare la nostra lista. Abbiamo già dimostrato nel passato di avere capacità e competenza per poterlo fare. Abbiamo fatto circa 27 milioni di Euro di lavori e di progettazione. Loro sanno quello che abbiamo fatto che è ancora sotto gli occhi tutti perché alcuni lavori stanno concludendo in questo periodo e quindi sicuramente hanno una persona e una squadra che gli può dare quella capacità di poter stare al centro del nostro territorio e riprendere di nuovo il ruolo che spetta a Gioia Sanitica. Bene, il nostro incontro politico per le elezioni comunali dell'8 giugno prossimo termina qui. Grazie al nostro ospite e alla prossima sigla.